Tra le manifestazioni inserite all'interno delle festività dedicate a San Nicola ce n'è una particolarmente bella che è dedicata ai sapori e colori delle contrade dei quartieri e proprio per questo l'evento che si terrà domenica 11 settembre è organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Comitati di Quartiere e di Contrada insieme alla Prologo. Abbiamo deciso quest'anno con il Comune di Tolentino, con la Prologo, con tutti i Presidenti di Quartiere e Contrada di fare questo primo evento qui a Tolentino con i festeggiamenti di Burra, San Giuseppe e Le Grazie e Foruario dove ognuno fa le proprie specialità della contrada. Infatti la Burra farà la polenta, San Giuseppe farà le tagliatelle, poi Le Grazie farà la grigliata di carne e Foruario i ragazzi faranno le creppe con panini fast food. Diciamo la cosa più bella è che la mattina alle 10 si sarà la Santa Messa in piazza poi dalle ore 16 ci saranno i giochi per i bambini con delle cose nobile per i giochi per questi ragazzi poi alle ore 18.30 c'è uno storico gruppo dei Ragni, i Ragni torneranno in piazza a Tolentino poi alle ore 21 c'è il Marlon Brando Bende che è un tributo per Liga 2 questo pure è un bel gruppo che farà molta molta festa. Questa è sicuramente un'occasione per creare aggregazione nel nome di Nicola ma soprattutto anche per dimostrare la vitalità di tutti i comitati di quartiere di contrada. Sì queste due parole sono giustissime questo è un evento che era partito, l'organizzazione era partita oltre sei anni fa mi ricordo la prima volta ci siamo visti alla Burra però non si riusciva a mettere insieme contrada e quartieri quindi siamo andati avanti, abbiamo lavorato, ho lavorato per riunire ho trovato la persona giusta con Paolo Domizzi che coordina tutto il gruppo dei quartieri e contrade e abbiamo inserito anche i comitati festeggiamenti che Paolo ha già detto e mi auguro che i prossimi anni questa manifestazione possa essere sempre più grande e quindi coinvolga veramente tutti in qualcosa da proporre nel centro della città a fine estate dove tutte le feste di contrada e quartiere ormai sono finite.